È citato qua e là queste nuove forme di protesta, di vendicazione, di evoluzione che riguardano soggetti antichi ma con vendicazioni molto moderne, quindi Black Lives Matter, quindi sono i neri, gli ex schiavi, le donne, i migranti, che non hanno mai avuto voce in capitolo, che adesso invece ce l'hanno, la prendono, se la rivendicano. Viene quasi a discapito delle classiche forme di lotta sociale che sono il lavoro, che sono i diritti dei lavoratori. Questo è vero, però secondo me anche qui c'è un rischio forte di contrapporre una rivendicazione più socioculturale a una rivendicazione economica. Su Giacobin Italia ho scritto un articolo con un amico, Lorenzo Mari, sul discussione, ultimamente anche molto accesa, sul linguaggio non sessista. Chi veicola poi questa attenzione al linguaggio sono precisamente quei movimenti sociali che poi allo stesso tempo si battono su questioni che sono tipicamente socio-economiche. la disparità salariale tra uomini e donne a parità di impiego, il fatto che negli Stati Uniti ci sia stata negli ultimi 3-4 anni una grossa ripresa della mobilitazione sindacale e che le battaglie più grandi e più forti si siano avute tutti in settori occupazionali in cui ci sono molte più lavoratrici che lavoratori. Lo sciopero delle maestre a Chicago, quello delle infermiere nel Minnesota. Le realtà che sono più attente tra virgolette a tematiche che noi chiamiamo culturali o simboliche sono guarda caso le stesse realtà che poi sono più attive anche sulle tematiche tra virgolette classiche, cioè quelle appunto di un certo tipo di sfruttamento, l'oppressione, la precarietà lavorativa, il welfare, il bisogno del welfare, eccetera. La sfida è cercare sempre di portare avanti le due cose di pari passo, cioè portare avanti un'istanza che ha a che fare con l'eguaglianza razziale o di genere al fianco di un'istanza tipicamente di classe, quello che ad esempio è il cosiddetto approccio dell'intersezionalità che è comunque una prospettiva che nasce dagli Stati Uniti già tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, proprio grazie alle femministe afroamericane, è leggere l'intersezione dei diversi assi di ingiustizia sociale e vedere che storicamente, ma anche da un punto di vista operativo concreto, lo sfruttamento del lavoro, l'oppressione razziale, quella di genere piuttosto che quella legata all'orientamento sessuale, eccetera, si rinforzano tra di loro e sono dei fenomeni che vanno di pari passo, lo si vede per esempio anche, pensiamo nel contesto italiano, quali sono i lavori in cui la maggior parte della forza lavoro è emigrante oppure composta da donne, sono esattamente i lavori meno garantiti. Questi sono dei casi molto concreti in cui non si può criticare il razzismo senza criticare lo sfruttamento di classe, senza criticare il sessismo, perché queste cose si rinforzano tra di loro e quindi la sfida ovviamente è quella di portare avanti delle piattaforme che siano il più possibile ampie. Una delle cose che provo a dire nel libro, è uno dei potenziali anche della rabbia, di una certa espressione della rabbia a punto di vista sociale, serve anche a costruire delle coalizioni, nel momento in cui noi anche in modo molto più rabbioso ma nel senso di molto più sincero portiamo le nostre istanze, le nostre sensibilità nella sfera pubblica, possiamo riconoscere molte più somiglianze e analogie di quelle che noi non vediamo all'inizio, perché se ognuno si tiene un po' il suo malessere, la sua discriminazione alla propria condizione privata, difficilmente ci accorgeremo che invece su molte cose possiamo agire insieme e agire con più forza. E ovviamente questa poi è la sfida, una delle sfide di questo momento storico e non a caso uno dei terreni su cui da parte conservatrice si tenta invece di dire, ah perfetto, vi diamo l'asterisco, vi diamo il linguaggio non sessista, poi però le donne lavoratrici le continuano sfruttate. Disinnescare queste cose è uno probabilmente anche dei compiti di un certo tipo di riflessione. Una delle cose che io provo a fare in questo libro, non so se riuscendoci è capire come si possa oggi fare lavoro intellettuale senza essere dei parassiti, si può fare un discorso critico che sia un discorso critico non autocompiaciuto, non soltanto astratto, qualcosa che davvero si misurino anche con le istanze sociali. Che venga anche compreso. Che sia comprensibile, si può fare, io faccio filosofo politico, si può fare filosofia politica senza essere dei ripostori in qualche modo, senza parlare a una minoranza di illuminati oppure senza addirittura diventare i nomi tutelari dello status quo. Ecco forse uno dei nodi per provarci è appunto portando avanti una riflessione in cui la teoria vada sempre a braccetto con la prassi, ho cito nel libro a un certo punto questo sociologo portoghese, Susa Santos, che dice dobbiamo passare dall'idea che chi fa teoria abbia un ruolo d'avanguardia a fare una teoria di retroguardia, cioè dobbiamo smettere di metterci fisicamente e simbolicamente alla testa dei movimenti in quanto intellettuali e dire voi dovete fare questo, 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 questo in questo ordine, ma dobbiamo avere anche l'umiltà, la pazienza di stare piuttosto verso la coda, anche qui nel senso spaziale ma anche simbolico e quindi vedere come i movimenti sociali operano, cercare di capire quali sono le ragioni, anche le emozioni che li muovono e poi lui dice fare un lavoro di traduzione, di creazione di legami, cioè come le pratiche di movimenti in luoghi geografici diversi, in epoche storiche diverse parlano tra di loro, dialogano tra di loro, come si possono creare tra di loro delle alleanze piuttosto che dei confronti costruttivi su certe temati. Io credo che uno dei pochi modi per provare a fare anche una professione intellettuale senza essere impostori oggi sia questo, fare della buona teoria di retroguardia. E come si suscita empatia invece? Perché io mi devo interessare al movimento delle donne, dei migranti? Perché la mia battaglia deve essere la mia battaglia? A volte spesso la nostra esistenza individuale, nel momento in cui cominciamo a guardarci un po' intorno e ci dà degli indizi. In altri casi è una dinamica politica un po' più di ampio spettro, cioè capire che se ad esempio non migliorano le condizioni di certi lavoratori migranti o stranieri, difficilmente poi in posizioni un po' più in alto nella scala di chi sta leggermente meno peggio, difficilmente si riuscirà a migliorare anche lì, cioè da certe dinamiche o ne usciamo insieme o non ne usciamo, perché voglio dire anche il ricatto che c'è su molte pratiche antisindacali, fino a quando ci sarà uno straniero che può essere preso a lavorare al di fuori di qualunque regolarità, al di fuori di qualunque limite di ore di lavoro, al di fuori di qualunque normativa sulla sicurezza, allora anche poi il lavoratore, tra virgolette, autoctono non si vedrà garantiti quei diritti, perché di fronte alla sua richiesta di diritti il padrone dirà vabbè io assumo uno straniero irregolare che tanto se mi denuncia viene cacciato dal paese perché non ha il permesso si soggiornano. Questa però è usata dalla destra, quindi è colpa eliminata che ti ruba il lavoro, si propone a basso costo e quindi ti ruba il lavoro. Poi su questo ci sono cose, questo è uno forse uno di quei pochi casi in cui dovrebbe dire anche usare un po' di fatti e logica potrebbe essere interessante, sono anche molti studi, non so, ormai anche abbastanza datati da meno vent'anni che dimostrano come la presenza di manodopera immigrata non abbassa i salari medi. Abbassano i salari soltanto quando si possono assumere gli stranieri in modo irregolare, se però io Stato faccio sì che il datore di lavoro debba assumere a parità di diritti di tutela sia gli autotoni che gli stranieri non c'è nessun abbassamento di salario anche se arrivano molti stranieri sul mercato del lavoro. E quindi sono questi i casi che poi probabilmente su cui anche da un punto di vista simbolico, mediatico, di narrazione bisogna investire perché anche qui e poi bisogna anche ricostruire un immaginario diverso, se il nostro immaginario è sempre quello dello straniero come criminale, lo straniero come minaccia, cioè questo perché? Perché da un lato contro questo immaginario reazionario si è creduto che bastasse appunto il fact checking, dare un po' di numeri, no, dice la destra racconta le storie e la sinistra dai numeri, ma verrebbe a volte dai numeri nel senso peggiore, però non funziona così, serve anche una narrazione. In assenza di un partito, cioè di un'organizzazione che colga istanze e le traduca in una politica, forse non basta scrivere su una rivista di sinistra oppure una sinistra che non c'è. Qui secondo me la risposta migliore è rifiutare alla provocazione, cioè dire questa non è una domanda a cui deve rispondere la teoria, ma è una domanda a cui deve rispondere la prassi, questa non è una domanda da fare all'intervista, questa è una domanda da fare agli attivisti, dire anche l'esperienza di alcuni movimenti negli ultimi anni, movimenti sociali, secondo me testimonia il fatto che poi se ci si muove appunto con una certa consapevolezza, appunto contro tematiche reali, non contro qualche capo espiatorio, cioè contro anche i grossi problemi della società di oggi, si possono immaginare anche delle dinamiche, delle agende politiche radicali di lungo periodo in assenza di partiti. C'è questa forma di organizzazione più radicale in cosa consiste? Per esempio nel creare una struttura non strettamente gerarchica tra livello nazionale e poi realtà locali, dove si condivide in modo non sempre ortodosso un nucleo anche di convinzioni di fondo, di strategie di fondo, ma poi si portano avanti in località diverse, battaglie su diversi fronti a seconda di quelli che sono i fronti più promettenti in alcuni contesti. Per l'Italia, a qualche caso anche appunto qui citato nel libro, nel capitolo su Nuna di meno a un certo punto cito peraltro una delle iniziative locali nate più o meno contemporaneamente sulla scia di quel grande movimento che è Nuna di meno, che è Obiezione Respinta, che è un movimento nato a Pisa, che sostanzialmente è un movimento che si occupa di mappare e in qualche modo anche contrastare l'obiezione di coscienza rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza, un problema molto grosso che noi abbiamo in Italia per cui il 70% dei ginecologi fa l'obiezione di coscienza. In alcune regioni è quasi impossibile abortire, nonostante sia poi un diritto formalmente garantito. E quindi questo movimento cosa ha fatto? Partendo da problematiche appunto molto forti in quello specifico territorio, cioè dove effettivamente era molto, quasi impossibile avere interruzione di gravidanza, c'erano stati episodi di violenza ostetrica molto forte nei confronti di alcune donne eccetera, mappare le varie realtà italiane, i reparti di ginecologia, le farmacie, i consultori, raccogliendo esperienze dirette di donne che siano rivolte a queste realtà, per dire in questo caso c'è stato questo tipo di abuso che viene segnalato, in questo caso invece le cose sono andate bene e quindi c'è stato un rispetto di quelle che sono le normative eccetera. Questo movimento è uno dei movimenti che durante il lockdown ha fatto sì, insieme all'associazione Luca Coscioni e altri gruppi, che in Italia fosse garantito il diritto all'interruzione di gravidanza anche quando gli ospedali erano pieni di pazienti Covid, aumentando il ricorso all'aborto farmacologico, che è un altro grande problema italiano da questo punto di vista, mentre i paesi in Francia, Spagna circa il 50% di interruzione di gravidanza si fanno non chirurgicamente, in Italia soltanto il 20%. Quindi il Ministero della Salute ha emanato poi delle linee guida che le regioni, chi più chi meno, stanno gradualmente ratificando durante il secondo lockdown per far sì, su stimolo di questa associazione di altre, che il diritto all'interruzione di gravidanza fosse garantito. Questo è un esempio di una realtà, un'associazione che nasce dentro una connessione più ampia, appunto il movimento di non una di meno, che si attiva su una tematica locale, singola, lo fa anche in maniera molto agguerrita, molto interessante, utilizzando le nuove tecnologie per raccogliere segnalazioni, mappare e così via, e che riesce ad ottenere dei risultati concreti su un aspetto specifico, che poi impatta direttamente sulla qualità della vita delle donne, però un'attivazione poi di un gruppo di persone, molto poco, 5-10 persone che sono inventate questo progetto, che adesso è diventata una best practice, come si vuole dire in altri paesi europei, che stanno provando a replicarla, dentro un movimento più ampio secondo me dimostra come in forme anche più reticolari, meno tradizionali, però è possibile organizzare l'azione politica, facendo anche un'agenda, una pianificazione, per fare cambiare la politica pubblica ci sono avuti un paio d'anni, il lockdown, il diritto civile, esattamente, all'interno di un movimento che però è tutt'altro che ignaro della componente socio-economica, verrebbe la dire dell'oppressione di genere, per cui ovviamente non è che questo sia l'unico modello, per forza è un modello che funzioni meglio, però movimenti sociali esistenti, presenti anche in Italia, dimostrano che è possibile vincere delle partite politiche anche sulla carta impopolare. Grazie a tutti!